Bentornati, siamo nell'argomento. Come sempre argomento monotematico, cerco di creare argomenti di interesse pubblico, mi rendo conto di sì anche dai vostri like, dai vostri ok anche su YouTube, non solo attraverso la TV ma anche attraverso il mio canale YouTube. Perciò andiamo avanti così, vuol dire che l'argomento interessa, di volta in volta un argomento diverso, animali, musica, antiquariato, antiquariato o macchine storiche, automobili storiche, che in fondo anche questo potrebbe essere una branca dell'antiquariato. E quando parlo di automobili storiche mi avvalgo della presenza qua in studio di Luca Pistolesi, che è fondatore del Topolino Club Livorno. Ed è un appassionato di auto storiche, di auto d'epoca. Quest'oggi facciamo un bel salto indietro e andiamo nel 1925, dove all'epoca girava per strada la Fiat 501. La Fiat 501 è vero, la Fiat 501 viene lanciata sul mercato verso la metà del 1919. Quindi era già 25, fra le ultime uscite. E' molto importante perché è la prima automobile costruita interamente in Italia, a Torino, nel nuovissimo stabilimento del Lingotto. Voi sapete che il Lingotto è stato il primo stabilimento della Fiat in cui la pista di prova delle automobili, anziché avvenire in terra, veniva sul tetto dello stabilimento. Perché il Lingotto? Perché la forma era proprio quella di un Lingotto. Esternamente era una classica costruzione che è iniziata nel 1916, ma il bello dell'esternamento del Lingotto, che io ho avuto il piacere e l'onore di visitare e salire con la mia Topolino fino alla pista di Collaudo, è quello che all'interno ci sono delle rampe meravigliose che portano le auto dalla produzione, dalla catena di montaggio che era in basso, fino in cima alla pista di Collaudo. Però oggi non abbiamo immagini del Lingotto, mentre abbiamo… L'unica cosa che volevo dire è… fu disegnato dall'ingegnere Mattè Trucco, che in quel momento era un architetto molto in voga, che si ispirava un po' anche alle Corbusier. Beh, però abbiamo invece le immagini della Fiat 501. Adesso vediamo la prima. Questa è la 501 del nostro servizio, è un po' atipica, nel senso che la 501 nasce, come nascevano in quel periodo spesso le automobili, in versione Torpedo. Questa invece è carrozzeria chiusa. Chiusa. Spieghiamo, Torpedo è scoperta. Era scoperta con la tela, con la tela e eventualmente i laterali da aggiungere con i bottoni. Che si poteva togliere e ottenere. Allora, veniva coricata dietro. Questa invece nella versione… Era cabrio. Sì, diciamo che l'80% delle automobili in quel periodo erano quasi tutte, parecchie, erano quasi tutte Torpedo. Poi verranno anche costruite con la carrozzeria chiusa. Ma di solito la versione Torpedo era quella, anche per costi e l'economia, era quella più in buca. Allora, abbiamo visto appunto la 501. Adesso vediamo un'altra immagine, abbiamo un altro totale. Guardate quanto è carino questo primo piano, questo musetto di questa automobile. Come vedete l'automobile è bicolore e il tetto è ricoperto di pergamoide. Pergamoide era una specie di tela impermeabile che veniva montata spesso a quei tempi, veniva utilizzata molto. Addirittura venivano rivestite le carrozzerie, si chiamava tipo Weiman, questa copertura. Era una pergamena abbastanza spessa. Era una pergamena spessa, resistente all'acqua, agli agenti atmosferici e dava anche un tocco di personalità all'automobile. Ritorniamo sull'immagine, vediamo il bel radiatore. Sì, questo è il radiatore ancora, lo vedremo poi. Eccolo, ancora. Ancora la Fiat adotta i radiatori stondati, come abbiamo visto anche sulla Fiat E0. Non a tempio. A tempio, alla fine, lo vedremo, alla fine della produzione della 501, cambierà la forma del radiatore, si andrà verso una modernizzazione. Qui abbiamo le portiere aperte, come abbiamo visto. Rivediamo un attimo queste immagini. Allora, cosa notiamo subito in questa fotografia, a parte il tipo di automobili? Notiamo che non ha, la 501 in questo caso, chiusa, non ha la portiera, guardandola così, sinistra. Al posto della portiera c'è la ruota di scorta. Per cui si entra dalla parte dove è aperta la portiera, si scorre il posto del passeggero e si va al posto di guida, che è posizionato accanto alla ruota di scorta. Mentre le portiere posteriori si aprono regolarmente. Si aprono entrambi. Questo perché, perché nelle versioni chiuse dell'automobili di quei tempi, veniva posizionato al posto della ruota di scorta, che erano posizionate dietro, poi lo vedremo, venivano collocati i bauli per il trasporto delle cose, delle valigie. Quindi la ruota di scorta, gioco forza, viene messa sul parafango. In questo caso chiude la portiera. Veniva sacrificata la portiera. Si doveva passare dalla parte opposta, scavalcare e poi andare alla guida. Cioè erano antidesignani di quello che facciamo oggi quando non troviamo posteggio. Si. E dobbiamo metterla. Dobbiamo prenderla con calma. Tra l'altro la 501 è il capolavoro dell'ingegnere, dell'avvocato Carlo Cavalli, Cavalli, che come in quei tempi veniva descritto, era un giurista strappato al foro e dedicato invece alla costruzione di automobili. Di automobili. Firmerà tanti bei progetti per la Fiat che è un ingegnere Cavalli. Ingegner Cavalli. Questo è l'avvocato Cavalli. Adesso vediamo l'interno di questa automobile. Vediamo. Allora, l'interno è un qualcosa, è un salotto, è un mobile, è un mobile, veramente. Tutto il cruscotto è interamente in legno, come sono in legno tutti i battenti delle portiere ed è in pelle trattata in cuoio il rivestimento delle portiere, con la tasca portaoggetti, di fronte a una cosa del genere, pur essendo un'automobile non di grande lusso, ma vedremo che poi la 501 in questa versione verrà usata principalmente anche come taxi e nell'esercito. Insomma, ci troviamo di fronte oggi a qualcosa di veramente interessante. Come potete vedere, una cosa molto interessante, vedete quel cruscotto di legno, la piccola protuberanza di alluminio che viene sopra i due strumenti? Allora, quello veniva chiamato cinesino. Cosa vuol dire? Siccome gli strumenti non avevano le lampadine interne per l'illuminazione, di notte la strumentazione sarebbe stata al buio. Buio. Allora, esatto. Bravo, bravo il nostro regista ha accolto subito. Bravo Alessandro. Bravo Alessandro ha accolto questo piccolo oggetto, serviva a espandere la luce sulla parte sotto dove si vede. La parte sotto si illuminava e espandeva la luce sulla parte sinistra, al centro e alla parte destra, in modo che tutti gli orologi e tutti gli strumenti venissero illuminati. Illuminati, lo pensate un po', questa è veramente una chicca. E veniva chiamato il cinesino perché la luce veniva fuori come un cappello, a forma di cappello dei cinesi. Dei cinesi, di quei denti. E veniva chiamato il cinesino. Come strumentazione, è una strumentazione abbastanza semplice, dove sulla destra abbiamo il contachilometri, accanto al contachilometri abbiamo l'amperometro, poi abbiamo sulla sinistra lo strumento di pressione dell'olio e l'orologio. Questa era una strumentazione abbastanza normale per un'automobile del tempo. Certo, dell'epoca. Dobbiamo anche però dare qualche piccolo scenno meccanico su quest'automobile, perché le prime serie avevano solamente freni posteriori, poi nella seconda serie verranno montati tutti i freni anche sulla parte anteriore, naturalmente a corda. Stiamo parlando di un'automobile di 1460 cm3 con 23 cavalli, 2.600 giri che la spinge a una velocità di 75 km orari. Non è tanto, non è poco, è una velocità adatta ad una vettura del genere in quel periodo. Si parte dal 1919 e si arriva al 1925. Uno nasce con l'impianto elettrico totalmente completo, addirittura già dotato di motorino di avviamento. Infatti davanti, se voi avete notato, non c'è la manovella, ma è di scorta per la messa in moto. Si parte già con il motorino di avviamento, perciò siamo già molto, molto, molto avanti. Dunque, adesso vediamo anche, abbiamo parlato di baule, vediamo anche il retro, eccola. Quello che avevo detto poc'anzi è che al posto, nella versione torpedo, quindi quelle con la tela, come abbiamo detto, le versioni con tutte tela, la ruota o le ruote addirittura di scorta, perché a volte ce n'erano anche due, venivano posizionate nella parte posteriore. In questo caso, per rendere l'automobile proprio, automobile a tutti gli effetti, quindi chiusa, riparata, dagli agenti atmosferici, interamente sfruttabile tutto l'abitacolo, al 100%, veniva dotata di questo baule, che in molti casi, addirittura, i baule venivano legati con delle cinghie e staccabili e portati via. In questo caso è un bellissimo baule, tutto rivestito di pelle, e serviva un po' per bagagliaio, perché ancora nell'automobile il concetto di trasporto per le persone era già avvenuto, ma l'abbinamento dei bagagli, delle borse, quindi delle valigie, alla persona non c'era ancora, cioè nella torpedo c'era posto per 4 persone, e le valigie invece piano piano con l'evoluzione dell'automobile si pensa anche di unire alle persone i bagagli, i viaggi per i viaggi, i bagagli. Infatti pochi, forse all'epoca anche. Un po' si viaggiava, anche se l'automobile serviva, specialmente nelle persone un po' più facoltose, serviva per trasportare i signori e le valigie al treno, i signori poi viaggiavano sul treno e l'autista via strada raggiungeva, secondo le loro località raggiungeva. Riportava in garage oppure raggiungeva al punto di arrivo. Bene, però prima adesso abbiamo da vedere il motore e tutto il resto, vorrei fare un pochino, uno sguardo, un giro intorno al 1925. Partiamo, come sempre sapete che mi piace partire dalla moda, dalla moda femminile. Dal 1925 parte la moda flapper, la gonna si scorcia, e anche di 35 centimetri da terra, pensate, il tutto per permettere agili movimenti di ballo. Ma già dal 1925, Coco Chanel aveva introdotto il look della garçon, alla garçon caschetto, gonne più corte, dritte e senza maniche. Vediamo adesso una foto con due signore, guardate proprio tipico dell'epoca, guardate il cappellino, la lunghezza dell'abito che è abbastanza corta per i tempi, pensate, siamo addirittura quasi sopra il ginocchio. Comunque che identifica l'anno secondo me quel periodo sono i cappelli. I cappelli, i cappellini, certo. Quando vedi un abbigliamento del genere, subito ti riporti tra il 20 e il 30. Il 20 e il 30. Infatti il cappellino era molto in voga, veniva portato praticamente sempre, era difficile vedere le donne a capo scoperto, e poi anche la lunghezza, che decisamente si era scorciata molto, proprio per permettere anche di poter ballare. Le flapper erano corteggiate, ed addirittura potevano decidere con chi ballare, pensate quanta libertà. E anche da sole potevano ballare. Siamo veramente in un'epoca, diciamo, molto molto più moderna di dieci anni prima, filtrare o meno. E adesso vediamo anche due figurini di moda di quel tempo. Ne abbiamo uno a colori, credo, vediamo un attimino la scaletta. Sì, figurino, eccolo, guardate qua, questo figurino, perché a quei tempi si chiamavano figurini, ma anche fino a pochi anni fa, queste figure stilizzate, disegnate, che usavano soprattutto nelle sartorie per realizzare poi i modelli. Vedete la linea molto dritta, è un pochino più lunga, però spacchettata per potersi muovere, diciamo, facilmente. E la pettinatura alla garçon, che veniva chiamata con questo caschetto. L'altra, ovviamente, ha il cappellino immancabile. L'atteggiamento era cambiato. Fumavano, bevevano alcolici e guidavano automobili. Adesso vediamo un altro figurino con quattro, no, anzi, sono di più, sono cinque abiti belli, molto eleganti, fascinosi. Vedete la figura come era snella, come era slanciata, sfuggente. E poi, udite, udite la donna al volante, che per quel tempi era veramente una cosa veramente da grande passo avanti. Questa è una bellissima Sanson. È una macchina inglese, infatti si vede anche l'ambientazione. Questa è una foto d'epoca originale. E queste, le donne che cominciavano a guidare le auto. E erano anche molto brave. Sì, già, a quei tempi, forse meglio di oggi. Sì, erano molto brave, e gareggiavano anche. Addirittura. Già, facevano, anche oggi ci sono alcuni raduni dove sono fatti appositamente per le donne. Uno, detto proprio dall'Asi, che si chiama, è valvolante, ha un grandissimo successo. Successo, immagino, anche perché poi sono... Sono pochi di regolarità, non sono proprio di velocità, perché oggi non è più possibile fare... Però c'è anche l'abbigliamento adeguato, è tutto adeguato. Perciò, pensate, già da quel tempo le donne cominciavano a guidare ed era veramente un grosso passo avanti. Per l'epoca, dicevamo appunto, l'atteggiamento era cambiato. Adesso vediamo una foto di quattro signore in bianco e nero. Una foto, fra l'altro, molto fascinosa, molto bella. Guardate questa atmosfera. Questa è una foto, non è un disegno, si vede. Ed è una foto d'epoca, dove si nota bene l'abbigliamento tipo Charleston. Qua, anziché dei cappellini, ci sono delle fasce in testa. Comunque, in qualche modo, il capello era sempre adornato da qualcosa. Qua, ovviamente, sono in un interno, perciò forse il cappellino non era proprio adeguato, perciò allora queste fasce e poi via a tutto swing, a tutto Charleston. Questo fenomeno, di questo cambiamento della donna, si riversò nella cultura popolare, influenzando cinema, letteratura ed arte, specialmente in America. The Flapper divenne anche una rivista indipendente che usciva a Chicago. Adesso diamo uno sguardo intorno al mondo del cinema e televisione nel 1925. Il 2 ottobre il fattorino Tainton fu il primo uomo a comparire in televisione. Guardate che strana è questa foto d'epoca, dove si vede questo signore con il microfono davanti, dove si vede questo strano marchigegno che dice si essere una delle prime telecamere, perché tutti quei buchini che si vedono erano le varie lenti e siamo addirittura proprio alla prima persona che apparve, le prime prove diciamo, che apparve in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese Baird come soggetto per esperimenti di trasmissione e di immagine. E questa è veramente una foto praticamente unica. pensate di che anno è. Il 26 gennaio nasce Paul Newman. Adesso abbiamo una foto. Gli occhi blu più famosi di Hollywood. Non credo che Paul Newman abbia bisogno di tante presentazioni. Tanti sono stati... Grande appassionato di auto. Di auto, anche lui. Corridore. Corridore. Tanti sono stati i suoi film. Credo che Paul Newman non abbia assolutamente sbagliato nella scelta di un film. Non ha fatto film da cassetta. Li ha fatti tutti veramente molto belli. Era un interprete molto particolare che lasciava il segno. Il 3 giugno nasce Tony Curtis. È come non nominare anche Tony Curtis del quale abbiamo una foto. E a New York è nato, consacrato al successo, con A Qualcuno Piace Caldo. Chi è che non ricorda A Qualcuno Piace Caldo? Un film stupendo di Billy Wyder con Marilyn Monroe e Jack Lemmon che con un finale veramente stratosferico e di una bravura tutti e tre, compreso il regista quattro, veramente che hanno creato questa icona del cinema che è A Qualcuno Piace Caldo. un capolavoro seguito da altri 90 film. Tanti ne ha fatti Tony Curtis. Pensate un po'. Anche lui ha avuto una gran bella carriera. Poi sul finale, diciamo, della sua vita, quando era più anziano, allevava cavalli insieme alla moglie, forse questo non tanti lo sanno, e dipingeva, aveva creato un altro mondo, non più dedito alle luci dello spettacolo, ma dedito a queste altre attività. Il 13 dicembre nel Missouri nasce Dick Van Dyke. Vediamolo qua, ha già qualche anno. Lo riconoscete? È l'indimenticabile spazzacamino in Mary Poppins. è veramente una figura stupenda, di una simpatia incredibile, di una bravura incredibile, perché Dick Van Dyke era veramente molto, molto bravo come cantante, come ballerino, come interprete, e poi di una simpatia veramente prorompente. A questo punto direi di vedere un pezzettino dello spazzacamino di Dick Van Dyke con Mary Poppins, che rimane nel cuore, credo di tutti, grandi e piccini ancora, perché è un film che spesso viene trasmesso, perché è veramente un capolavoro con Julie Andrews. Vediamo. La Sorte è con voi se la mano vi do e un bacio vi da felice sarà Tu penserai che lo spazzacamino si trovi del mondo al più basso gradino Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me Cam Camini, Cam Camini, spazzacamino Allegro e felice pensieri non ho Cam Camini, Cam Camini, spazzacamino Cam Camini, la Sorte è con voi se la mano vi do Cam Camini, Cam Camini, spazzacamino Che allegro e felice pensieri non ha Cam Camini, Cam Camini, spazzacamino la Sorte è con te se la mano vi da Bene, scusate la qualità delle immagini ma ho voluto scegliere proprio uno non restaurato per vedere come era visto qualche anno fa ovviamente così un pochino sciupato dal tempo perché è originale questo filmato infatti addirittura è anche sottotitolato con le parole della canzone tanti altri personaggi famosi nacquero nel 1925 però il tempo non mi permette di menzionarli anche perché ci sono le automobili delle quali Luca ci desidera parlarci e alle quali lascio spazio per concludere la tua questa bella prospettiva che hai fatto Pognum era un appassionato soprattutto di Porsche era un grande cultore di Porsche come del resto Tony Curtis lo incontreremo poi che è un'età un po' più matura come hai detto te insieme a Roger Moore una famosissima serie attenti a quei due dove l'automobile è importante in questa serie di telefilme era protagonista era abbastanza protagonista perché Tony Curtis con temperamento un po' focoso viaggiava su una Ferrari 208 mentre Roger Moore da classico inglese viaggia a Martin quindi c'era anche questa una specie un po' di rivalità tra lo spirito di Tony Curtis e quello di Roger Moore in quei cavi inglesi mentre Tony Curtis era più scansonato scansonato ci hai avuto la fortuna di colloquiare con Tony Curtis anche se solo via tramite mail e ogni tanto mi mandava alcune immagini quando aveva appunto il maneggio aveva sempre tantissimi capelli tutti bianchi ma tantissimi rimasti come erano quando era giovane solamente che erano neri però tantissimi capelli bianchi vabbè però torniamo alle automobili vediamo ad esempio adesso il motore eccolo il motore si vede che è un dalla foto si vede che è un motore si un po' datato insomma siamo ancora ai motori costruiti diciamo si vede il tipo di fabbricazione ancora abbastanza elementare questo è preso dal lato dello scarico dove si può notare a sinistra la pompa dell'acqua sotto la dinamo a destra il famoso avvisatore acustico ancora non clacson quello che quando si suona la gente salta esce dai pantaloni come detto è un motore di 1500 cm3 501 fra l'altro sarà anche famosa per le sue grandi doti di affidabilità è una delle vetture che comincerà veramente a dare prova di resistenza nei vari impieghi tanto come ho detto prima anche il regio esercito se ne avvarrà abbiamo un'altra immagine di motore se non erro da vedere e da commentare questo invece è dalla parte diciamo del carburatore dove si vede a sinistra lo stelo della scatola e lo sterza il magnete il carburatore guardate com'è piccolo il carburatore che viene direttamente innestato sul monoblocco perché essendo un'automobile ancora come usavo a quei tempi con le valvole laterali la valvola aspira la benzina dal carburatore e non sarà come dopo un seguito dove il carburatore invece sarà montato in testa e quindi la benzina oltre che essere aspirata dalle valvole verrà proprio scesa scenderà a caduta qui invece viene aspirata dalle valvole e quindi è iniettata nella camera quanto spazio c'è in questo motore si è un motore molto piccolo molto spartano sono tutti motori semplici quindi cos'è che dava la resistenza a questi motori non certo i materiali proprio la loro semplicità la loro semplicità e quindi il loro anche numero basso basso numero di giri portava a un bassissimo logorio erano praticardici si se un motore del genere avesse fatto 4 o 5 mila giri come adesso fanno i motori attualmente con i materiali di quei tempi invece nel tempo hanno resistito e sono arrivati anche a giorni nostri proprio perché la semplicità e quindi pochi accessori da potersi rompere e quindi il basso numero dei giri hanno fatto sì che questi automobili facessero tanta strada e quindi abbastanza lunga vita adesso sfido chiunque che non sia ovviamente un esperto a capire che cos'è questa immagine che adesso arriva che cosa è questa? questa è una cosa che anch'io ho imparato nel tempo non è che nella 501 per verificare il livello dell'olio oltre all'asticella c'era questo oblo qui si vede si vede infatti una parte del livello dell'olio era posta nel monoblocco e si vedeva a che punto fosse era determinante nell'automobile di quegli anni l'olio sotto controllo l'olio si vede proprio il livello dell'olio la pressione era determinante più dell'acqua più dell'acqua più dell'acqua perché se l'olio mancava si bruciava tutto si fondeva il motore siccome erano motori che avevano delle tolleranze molto ampie l'olio si riviveva proprio veniva usato per veniva bruciato nella combustione proprio per lubrificare quindi oggi se vediamo un'automobile che fa del fumo bianco dietro e consuma olio è perché questo motore non va bene funziona a quei tempi invece il fumo era normale era normale perché l'olio oltre a lubrificare la parte bassa del motore quindi l'albero motore e le bielle lubrificava anche lo scorrimento dei pistoni nei cilindri e quindi l'olio doveva essere consumato perché bruciandosi lubrificava la camera di combustione e profumava l'ambiente l'olio doveva essere tenuto tant'è vero che nella strumentazione in questo caso manca per dire l'indicatore della benzina ma c'è il manometro dell'olio certo la benzina veniva misurata con l'asticella poteva al massimo rimaneva a piedi ma insomma non succedeva nulla allora l'acqua era importante ma quando a un certo punto vedevamo dal radiatore fumo il vapore si fermavi ma l'olio l'olio non lo vedevi quindi l'olio era importante vedere che il motore avesse pressione che avesse pressione bene adesso andiamo facciamo un salto nella fabbrica da dove uscivano ecco questa è una bellissima immagine della catena di montaggio 501 appunto nello stabilimento dell'ingotto dove viene appreso da dalle stabilimenti Ford dove Henry Ford con la Ford T inizierà la produzione in serie in catena di montaggio l'assemblamento dell'automobile cioè l'automobile scorre e scorrendo ogni stadio viene aggiunto un pezzo dell'automobile in questo caso vedete sotto il telaio pronto per ricevere sopra la scocca quello che abbiamo visto bicolore ecco verrà posizionata sopra verrà imbulonata perché era tutta imbulonata di saldatura non c'era niente ancora poi la macchina scorrerà l'automobile scorrerà ancora avanti verrà corredata delle ruote perché vedete ha solo i cerchioni quindi verrà corredata dei cerchioni o in legno o in lamiera il passo successivo sarà mutabilmente l'aggiunta del copertone del pneumatico e questa è una bellissima è una bellissima immagine dell'interno dello stranamento del lingotto del lingotto bene adesso abbiamo un'altra foto però questa volta è in bianco e nero è proprio cioè come quella che abbiamo visto prima è proprio d'epoca questa è la prima serie della 501 e poi vedremo perché è la prima serie perché ancora i parafanghi anteriori e posteriori come voi vedete sono a scalino cioè non seguono l'andamento del pneumatico ma finiscono orizzontali sì diciamo a taglio a taglio a taglio e anche questa è una tipo di musiche di chiusa è la prima serie del 1919 addirittura siamo nel 1919 primo modello della 501 adesso abbiamo un'altra immagine d'epoca ecco come infatti vedete nelle seconde serie a parte ora vi spiegherò questo tipo di automobile il parafango segue proprio l'andamento della ruota quindi dà anche una forma di aerodinamicità e anche un pochino più elegante insomma un po' più raccolta orbita alla vista certamente questo è un bellissimo esemplare questo esemplare è due posti con il famoso posto della socera questo tipo di allestimento verrà chiamato in tutta Europa verrà costruita non solo dalla 501 lo farà la Peugeot lo farà la Citroen verrà chiamato Coupé Doctor perché Coupé perché è in due posti Doctor perché veniva spesso usato dai dottori e dai veterinari perché era un'automobilina molto agile e veniva usata per le visite per i veterinari nelle fattorie e per i dottori nelle case però perché l'auto fosse anche fruibile per la famiglia veniva giunto come vedete dietro il famoso strapuntino opposto della socera noi in Italia si saliva c'era un predellino sul parafango destro si saliva si entrava dentro accoglieva due posti di solito ci stavano comunque i bambini il padre e il mio zio stavano lì comunque in ogni epoca la suocera o la suocera perché proprio come dire statene fuori ma noi si sta al coperto e te invece stai fuori pensate un po' l'italiano si è sempre voluto distinguere anche in queste piccole cose che ovviamente sono molto molto simpatiche adesso invece abbiamo un'altra versione ecco dunque questa è bellissima questa foto perché innanzitutto come ti dicevo al volante c'è una donna questa è la versione SS della 501 che anzi che avere 23 cavalli ne aveva 26 e mezzo 27 i giri erano aumentati da 2006 da 2002 a 3000 e pensate spingeva questa automobile alla velocità di 100 km orari quindi veniva usata anche la 501 sarà anche blasonata nelle corse e questa è un'immagine molto bella perché monta già delle ruote a raggi quindi pesa meno ci sono meno accessori e tutta questa potenza che ne deriva dal motore verrà proprio sfruttata per la velocità nella velocità infatti vediamo la pilota che ha il tipico cappello dell'epoca con gli occhialoni sulla testa per aumentare la per non offrire resistenza all'aria non c'era il parabrens ma solo un cupolino che tappava le mani e quindi tutto il vento veniva l'occhialone il cappello ti dovevi riparare proteggere anche perché poi se no non vedevi più ovviamente comunque auto da corsa dell'epoca e adesso facciamo come diceva prima Luca aveva già un pochino anticipato quello che vediamo adesso che è Luca ecco questo alla fine alla fine della carriera della 501 in cui ne verranno prodotte circa 70.000 pensate che è un numero importante non solo per il periodo in cui viene costruita dal 19 al 25 ma anche per la nostra motorizzazione che in Europa era un po' lenta dovremmo aspettare l'arrivo delle vere utilitarie come la Fiat Balilla e la Topolino per avere dei numeri un po' importanti mentre nel resto dell'Europa in Francia in Germania l'automobile era già molto più affermata che da noi e quindi l'erede della 501 è la 502 la serie 502 503 e come vedete nella fotografia uno dei passi più importanti è la scomparsa del radiatore tondo stondato e l'arrivo del radiatore a tempio a tempio rivediamo darà via darà il via soprattutto rivediamo l'immagine appena possibile della 503 darà il via vedete il radiatore è fatto a tempio darà il via a una serie di modelli molto importanti per la Fiat la 521 la 22 ma soprattutto la piccola 509 che sarà un'automobile abbastanza utilitaria per la Fiat perché avrà un motore di 900 cm3 e sarà l'automobile che l'abbiamo già parlato tante volte d'annunzio ti definirà nella 509 che l'automobile è femmina è proprio dalla 509 con il radiatore a tempio che lui a questo punto trasse questa deduzione questa deduzione che l'automobile perché la 509 era così talmente bella simuosa graziosa era piccolina perché era 900 di cilindrata però era graziosa armoniosa sinuosa sinuosa che alla fine d'annunzio poi l'abbiamo detto decise che l'automobile è femmina bene con questo per finire una piccola aneddoto la 509 per cui ha avuto anche mio nonno in famiglia non veniva chiamata le prime serie venivano chiamate 500 Noie noi italiani subito avevamo dei piccoli problemi e quindi subito abbiamo comprato la 500 Noie nella seconda serie la 509 verrà corretta d'altra parte erano gli scotti che si pagavano a quei tempi e la 509 invece sarà un'automobilina veramente una bella comunque avete capito che la passione di Luca praticamente è di famiglia ecco anche il nonno la chiamava 500 Noie perché veniva chiamata non me ne voglia la Fiat perché sono inediti graziosi anche tuo nonno aveva auto ed era appassionato con la 501 con la 501 bene e con la definizione che l'automobile è femmina noi vi salutiamo e anche per quest'oggi ringrazio Luca Pistolesi della sua consulenza e del suo intervento qua in trasmissione e come sempre io vi do appuntamento al prossimo speciale d'argomento ciao ciao